Arriva tardasera Nicola Zingaretti a Isernia, le 22 passate, un orario assolutamente inedito per incontri politici che sembrerebbero non interessare più nessuno, ma non è stato così per il governatore del Lazio, in corsa quasi solitaria verso la leadership del Partito Democratico. La sua prima visita in Molise l'ha fatta su invito di Michele Durante, presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, in corsa per la segreteria regionale insieme a Vittorino Facciolla e Stefano Buono, ma Zingaretti tornerà in Molise invitato questa volta da Facciolla, assente ieri sera a Isernia, mentre l'altro concorrente Stefano Buono c'era e ha salutato Zingaretti, abbandonando poi i lavori. Zingaretti, pur se invitato da Durante, non si è sbilanciato in favore di nessuno dei tre candidati molisani alla segreteria, che sostengono del resto tutti la sua mozione, preferendo affondare il coltello nelle ultime due decisioni del governo gialloverde che hanno destato le maggiori polemiche delle ultime ore. La prima quella di salvare la cassa di risparmio di Genova, la città di Grillo, la banca in cui uno dei soci di riferimento è seguito dallo studio legale Alpa, il mentore di Giuseppe Conte, tanto che già si parla di un pesante conflitto di interesse sia di Grillo, genovese come la banca, sia dello stesso presidente del Consiglio. Il tema non è quello che è accaduto oggi, sono le cretinate le porcate che hanno detto prima di oggi contro chi col governo di centrosinistra aveva fatto le stesse cose, quindi oggi si svela che anche sulle banche avevano detto una marea di bugie e hanno fomentato gli italiani praticamente sul nulla e quindi ancora oggi è un'altra giornata che svela un altro degli imbrogli e dei trucchi di chi sta governando l'Italia. Altra polemica del giorno cavalcata da Zingaretti, quella relativa all'appoggio dato dai grillini ai gilet gialli francesi, col risultato di un Macron che ha accusato l'Italia di una grave scorrettezza politica ed ha avviato la procedura di rescissione dell'accordo tra Fincantieri ed STX, un'altra scelta indovinata del Movimento 5 Stelle che costerà migliaia di posti di lavoro all'Italia. Sia Di Maio che Salvini pensano che gli italiani sono dei polli d'allevamento, quindi per nascondere il non governo che stanno producendo ogni giorno si inventano una distrazione, delle bombe di distrazione di massa per nascondere quello che è accaduto alcuni giorni fa. Per impedire che gli italiani guardino a questo ogni giorno se ne inventano una, ieri i gilet gialli e poi in otto minuti di nascosto il salvataggio delle banche, non perché non sia corretto farlo ma perché, ripeto, hanno costruito il consenso sulla demagogia e sul racconto di bugie e ora non sanno più come gestirla. Michele Durante e Senna ad accogliere Zingaretti, in nome di che cosa Durante? In nome del Partito Democratico al quale ho aderito, che diventa la mia casa, come spero diventi la casa di tantissimi giovani molisani che non si appassionano di politica, che hanno perso la speranza perché la politica e i partiti hanno abbandonato quel compito di rappresentanza che la Costituzione gli delegava e in nome di una ritrovata, ricercata, area di cambiamento della quale tutti sentono il bisogno, a partire da Nicola Zingaretti che l'ha esplicita chiaramente nella sua mozione per la Segreteria Nazionale, che io ho sposato pienamente.